Francesca Antonaci in arte Geggia scende in politica. L'annuncio ufficiale è giunto durante l'anteprima di TR News. A lei non serve nulla, sta bene così, sta bene a casa sua, dice. Ma sente e vede che il territorio ha bisogno di qualcosa, di un aiuto. E ora Geggia ha voglia di scendere in campo, puntando i fari su ciò che non va. Ora io sono pronta per entrare in politica. Aiutatemi tutti insieme, perché io non so, quindi a me mi dovete aiutare. E io se riuscirò a diventare, non dico crossa, ma insomma che ho un po' di potere, e allora io porterò le telecamere qui. Andrò a guardare a chi danno i soldi alla regione per la filmficione a Puglia, perché li danno solamente a Cediciano Idri. E vedrò di qua e vedrò di là e potrò veramente divertirmi. E alla domanda di una telespettatrice con Chiti Schieri in politica, lei risponde che la sua scelta non è la sinistra. Opta infatti per la destra, anzi dice di aver già ricevuto una proposta da Salvini. Con chi ha intenzione di schierarsi. Grazie e auguri. Grazie, tesoro. Il suo nome? Ha chiuso. Ha chiuso. Allora, sicuramente non è la sinistra, a meno che la sinistra non venga e mi dica, ci dica, non parlo di me, ci dica, allora noi faremo a Lecce questo, noi nel Salento porteremo questo, noi faremo, comunque non è sinistra, va bene? Allora, siccome io vado con le persone, a questo punto non vado più con i partiti, perché tanto è un casino dappertutto, sicuramente sarà a destra. Con chi ti impegneresti politicamente? Beh, sicuramente Berlusconi, Salvini, Meloni. Ecco, mi sono già fatta una proposta, però. Chi l'ha fatta la proposta? Devo ancora, Salvini. Salvini. Insomma, non mi fa parlare prima di andare a parlare, a sapere. Ma poi ti faresti chiamare onorevole Geggia o onorevole Francesca Antonacci? No, Geggia, Francesca, Francesca Geggia, come mi chiamano tutti? Quale onorevole? Onorevole di che? Ah, non vuoi diventare parlamentare? No, 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 sì, ma non mi chiamerò mai onorevole, casomai... Ti prende a schiaffi. Chiamatemi, per cui mi sarebbe piaciuto sentire chiamare Bona, Bona, Bona Geggia è brutto. Bona Geggia non va. A Bella, come dicono a Roma, a Bella.